Rinviate le dimissioni dall'ospedale di Ramallah del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Questo è quanto si apprende da una nota diramata dalla presidenza dell'autorità nazionale palestinese. Abbas è stato ricoverato il 20 maggio scorso con complicazioni a seguito di un'operazione alle orecchie che gli ha procurato la febbre alta e una forma di polmonite e avrebbe dovuto lasciare l'ospedale dopo essere stato sottoposto a dei trattamenti. A febbraio il presidente palestinese si era già sottoposto a dei test medici considerati di routine. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.